C'è un'antica usanza, diffusa un po' ovunque, quella di suonare le campane a morto ogni qual volta un cittadino passa miglior vita a Taviano. Però da quest'anno le campane scampanelleranno anche per ogni nuovo nato. L'iniziativa è del sindaco Giuseppe Etanisi e accolta favorevolmente da tutti, amministrazione, cittadini e parroci della città. Un modo innovativo per esultare quando la vita irrompe nella comunità di Taviano, in un periodo in cui la natalità è in calo. E per questo motivo l'amministrazione comunale ha dato il via ad un sostentamento alle famiglie coraggiose. Il primo bimbo nato, una bimba, Matilde, ha accompagnato il suono delle campane proprio per significare un nuovo tavianese in una fase di decrescita della popolazione, non soltanto nella mia città ma in tutto il Mezzogiorno d'Italia. E allora l'impegno dell'amministrazione comunale con il sostegno alle nascite, alle famiglie. Un buono di 100 euro dalla gestione della farmacia comunale a beneficio dei bambini che nascono nel corso di questo 2020. Un segnale della vita con un albero piantumato all'interno della nostra città per ogni bimbo nato. Il sostegno alla famiglia anche con una gestione dell'asino nido che continuiamo a gestire in economia, con una gestione diretta dell'amministrazione comunale, che mi sembra un impegno, un segnale, una buona pratica amministrativa per la nostra città che continueremo a sostenere. Tra l'altro c'è stata una buona reazione da parte della cittadinanza a questa sua iniziativa. Un compiacimento generale. Matilde è stata proprio la prima tavianese nata nel 2020 e ci siamo insieme compiaciuti della nascita di questa bimba nella nostra città.